buongiorno ragazzi 3 maggio 2022 facciamo l'uscita tonne alletterati con Fabrizio Fini, Donato, Repele e il Grande Red siamo qua ragazzi ragazzi abbiamo utilizzato il Red Ice della Maria Yamasita che sono artificiali che fanno sempre la differenza vengono a vedere appena presi bello alletterato ragazzi guardate il Red Ice macchina da guerra questo eh cinque lanci e cinque strike settimo strike il Red Ice micidiale il Red Ice della Maria è micidiale strano frigo no 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 dammelo a me facciamo una foto non vuoi fare una foto scoppiamo i video scoppiamo i video